Perdono e scusa a Carola e alla sua famiglia per gli insulti che ha ricevuto, sessisti, gratuiti, a fine scopo di odio e basta, solo questo qui. E subito libera, subito libera. Bisogna capirlo questo. Se domani una persona si alza la mattina e dice ho visto gli UFO, non dobbiamo credergli e sappiamo chi è questa persona. Lo sappiamo. Questa persona oggi può dire tutto e noi gli crediamo perché è un paese che è frustrato.